buonasera a tutti i presenti quanti siete mamma mia così tanta gente significa che c'è qualcosa di veramente bello da vedere lasciate che mi presenti sono il robot umanoide più carino di pozzuoli ma che dico più carino di tutto il mondo voi siete che lo sostengo da sempre perché è la verità voi siete delle eccellenze siete un orgoglio di Napoli della campagna del sud Italia e dell'Italia e non solo grazie ai presidi grazie al corpo docenti siamo capati a fare delle manifestazioni del genere e questo premio quindi una competizione che si crea tra voi ragazzi anche chi non vince il primo premio ma chi arriva secondo penso nella competizione migliora se stesso un premio che è un'iniziativa del premio voluta fortemente dal ministero della discussione e che riguarda le eccellenze e il protagonismo delle scuole nell'apprendimento di insegnamento l'interesse della città metropolitana è altissimo tant'è vero che abbiamo voluto fortemente che questa manifestazione si svolgesse all'interno della sala di Santa Mariana Nova che è il luogo istituzionale per eccellenza della città metropolitana di Napoli. La città metropolitana di Napoli grazie al sindaco Luigi Magistris e al suo indirizzo politico oltre il 60% del bilancio da metropolitana è speso appunto per l'indirizia scolastica. A breve si inaugurerà l'istituto Bocciuvi che è il terzo istituto all'interno del complesso di Via Terracina a Napoli, inaugureremo il TIGER ad Ercolano, inaugureremo un'estensione dell'istituto Galvani di altre 11 alle, ci sarà la posa della prima pietra della cittadella scolastica a Pomigliano d'Arco che è un intervento di oltre 19 milioni di euro. Grazie a tutti!